Il programma è offerto da Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator C'è posto per tutti, non rinunciate alle vostre vacanze Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi Il Tuareg Tour Operator, tutto un altro mondo da godere Riprendiamoci il belum capire Grazie a tutti. 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 e Crivello e a questo punto proprio Fabrizio Vitale sul giornale di Sicilia si chiede dove gioca Crivello l'anno prossimo potrebbe restare centrale l'anno scorso complice in parte anche il livello comunque abbastanza basso non ha fatto fatica a giocare da centrale ma potrebbe tornare in quello che è il suo ruolo naturale ovvero sia quello di Terzino quello in cui ha fatto grandi cose tra le fila ad esempio del Frosinone in cui ha conquistato una storica promozione dalla B alla A oppure Marconi potrebbe tranquillamente fare da rotazione con gli altri elementi del reparto difensivo i già menzionati Lancini e Accardi che comunque parte un gradino sotto all'ex Brescia e al Palermitono Purosangue oltre che al giocatore arrivato a titolo definitivo dal Monza nella giornata di giovedì proseguiamo sempre parlando di mercato perché il Palermo continua in maniera incessante a lavorare proprio sul reparto offensivo e come scrive questa mattina il corriere dello sport Boscaglia cerca gol per il Palermo il nuovo allenatore è a lavoro per completare la squadra rosa nero il tecnico traccia l'identikit del suo bomber ideale dovrà correre tanto parole che ha detto nella conferenza stampa svoltasi mercoledì mattina allo sedio Renzo Barbera in cui ha parlato oltre al tecnico gelese anche il comparto dirigenziale ovvero sia l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini mancano dei tasselli in tutti i reparti ha sottolineato Boscaglia che è stato intervistato da altre cose ieri mattina dal TG Regione Sicilia nel giro di 20 giorni si dovrebbe completare tutto forse anche di più considerato che il mercato resterà aperto per tutto settembre anche con il mercato appena cominciato e il nome come detto è quello di Corazza del centravanti ormai prossimo a lasciare la regina anche perché la regina ha puntellato il reparto offensivo già composto da gente come German Dennis con elementi del calibro di Jeremy Menez e Kyle Lafferty parliamo certamente di un giocatore importante ma non c'è solo lui ha detto Boscaglia che a proposito di Felici spera di poterlo trovare anche Castagnini ha detto è un giocatore del Lecce che ha deciso di tenerlo ma è un discorso chiuso come abbiamo detto ieri la questione Felici è molto semplice è un giocatore del Lecce è vero ma dopo l'esonero di Fabio Liverani che tra altre cose sembra prossimo ad accasarsi al Parma Felici potrebbe lasciare Lecce perché era proprio l'allenatore romano a spingere per la sua permanenza tanto da averlo convocato per il raduno che avrebbe dovuto svolgersi con Liverani in casa Salentina in questi giorni invece si svolgerà con un altro allenatore che potrebbe essere a proposito di ex registi della formazione palermitana da Eugenio Corini e a proposito di centrocampisti ex Palermo vi voglio preannunciare l'appuntamento con oggi pomeriggio perché chiuderemo in bellezza la settimana di fil rouge rosa nero perché avremo ospite ovviamente in collegamento Daniele Didonato il capitano storico del Palermo l'ultimo capitano insieme a Cappioli ovviamente nei gradi di capitano e vice capitano che completò con la maglia del Palermo la scalata dalla C alla B sono passati ormai quasi vent'anni era l'annata 2000-2001 Daniele Didonato che è stato anche il capitano storico del Palermo nella promozione dalla B alla A con lui parleremo di tutte queste tematiche ma intanto vi do l'appuntamento alla seconda parte di fil rouge rosa nero torneremo in studio dopo un minuto dedicato alla pubblicità ovviamente restate con noi riprendiamoci il riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator c'è posto per tutti non rinunciate alle vostre vacanze riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi il Tuareg Tour Operator tutto un altro mondo da godere dunque rientriamo seconda parte di fil rouge rosa nero state come vi preannunciavo in chiusura di prima parte oggi pomeriggio alle ore 18 sarà nostro ospite per l'ultimo appuntamento della settimana Daniele Didonato storico capito che è il nostro capitano del Palermo di due ere diverse, in un certo senso, delle ultime due ere precedenti a quella attuale che stiamo vivendo, quella del compianto Franco Sensi in quanto vinse da protagonista il campionato di Serie C 2000-2001 e vinse da capitano con i galloni ben precisi, ben determinati, il campionato 2003-2004 in Serie B con Maurizio Zamparini alla presidenza e con Francesco Guidolini in panchina, con lui parleremo del passato, del suo presente e del suo futuro e del presente e del futuro ovviamente del Palermo, ma non c'è solo il Palermo ovviamente a tenere banco in questo momento in ottica calcio siciliano perché si sta risolvendo in queste ore, dovrà risolversi in un modo oppure in un altro, la situazione del Trapani, Trapani che ricordiamo è retrocesso sul campo dalla Serie B alla Serie C dopo anche il vano tentativo di fare ricorso contro la penalizzazione di due punti che alla fine dei conti è stata decisiva visto che al Trapani è mancato un punto per giocare i play-out, poi vinti dal Pescara contro il Perugia, i due punti per addirittura salvarsi senza passare dall'ultimo spareggio, Trapani che adesso sta cercando i fondi necessari, i mezzi necessari per sopravvivere, la sensazione è che la squadra si iscriverà al prossimo campionato di Serie C, come detto per le squadre retrocesse dalla B alla C, ovvero lo stesso Trapani, il Pescara, la Juve Stabia e il Livorno, quest'ultimo in grande difficoltà societaria, c'è stata una deroga fino al 24 agosto compreso, ma intanto andiamo a vedere cosa scrive questa mattina la Repubblica perché c'è la trattativa che vede protagonista una vecchia conoscenza dei tifosi trapanesi, ovvero sia Giorgio Heller, l'imprenditore romano che non è riuscito a mettere le mani sul Trapani circa un anno fa quando alla fine la società Granata passò dalle mani di Liberty Lines, della famiglia del comandante Morace a quelle dell'imprenditore Irpino De Simone, sappiamo tutti com'è finita anche con questo personaggio che ricordiamo è stato anche arrestato per appropriazione in debita, d'altra cosa ha sottratto 300.000 euro dalle casse del Trapani, Heller come si legge stamani su Repubblica vuole disperatamente il Trapani e chiede a Petroni di farsi da parte, la squadra verrà iscritta in Serie C, così scrive stamani la sezione siciliana del quotidiano milanese, ma restano debiti per circa 3 milioni di euro che rendono il futuro del club a forte rischio e dunque staremo a vedere anche la situazione del Trapani, che è una situazione molto complicata, abbiamo avuto modo di vedere, ci sono oltre ai 60.000 euro che poi sono stati colmati nei confronti della Covizoc, per quanto ricorda la sezione scorsa ci sono ben 500.000 euro di debiti, contratti nei confronti di calciatori, membri dello staff e anche nei confronti della tesoreria, della Lega di Serie B, vedremo come andranno le cose, non sappiamo se Heller avrà la forza necessaria nel caso in cui dovesse acquisire il Trapani per colmare questi 3 milioni di euro, intanto la garanzia sull'iscrizione sembra essere stata data quantomeno in forma verbale, ma per il momento si brancola nel buio, poi ci sono le situazioni che abbiamo enunciato anche nella giornata di ieri, ovvero sia quelle dei tre calciatori che potrebbero far fare cassa al Trapani, ovvero sia il già menzionato Stefano Pettinari finito nel mirino del Palermo e come si è letto questa mattina sulla Gazzetta dello Sport anche nel mirino dell'ambizioso Bari, Colpani il giovane centrocampista ex Atalanta che piace tanto soprattutto in Serie B e potrebbe far fare appunto qualche decina di miliardi di euro al Trapani e infine Mbalanzola che ha conquistato la Serie A sul campo con lo Spezia con il suo allenatore già ai tempi del Trapani Vincenzo Italiano e che per via di una serie di situazioni di mercato con lo Spezia che non lo riscatta, col Trapani che vanta appunto questa clausola da 600.000 euro, 250.000 dei quali andrebbero comunque al Carpi per via della percentuale sulla futura vendita stabilita nella trattativa che portò Onzola al Trapani due anni fa, quindi il Trapani potrebbe racimolare queste migliaia di euro che intanto potrebbero quantomeno diminuire in maniera consistente e corposa il debito maturato in questi ultimi mesi. Saltiamo da una costa all'altra della Sicilia, passiamo dal nord-ovest alla costa orientale da Trapani a Catania perché intanto il Catania ha messo a posto la sua situazione debitoria nei confronti della Lega di Serie C si è iscritto al campionato, ha finalizzato il passaggio di consegne nelle mani di Sigi ma continua la trattativa per l'ingresso in società dell'imprenditore italo-americano Joe Tacopina e come possiamo vedere grazie alla regia con la notizia resa nota dai colleghi di Catanista in particolare dal direttore Attilio Scuderi continua l'interesse di Joe Tacopina verso la nuova proprietà del calcio e Catania secondo quanto raccolto dalla redazione di Catanista infatti Tacopina è pronto a tornare sotto il vulcano e sarà a Catania la prossima settimana per rimanere ben dieci giorni con la volontà di inserirsi nel futuro del Catania consegnando un rafforzamento di prospettive e risorse importanti intanto la Sigi ieri si è riunita per una nuova riunione strategica si è parlato anche di Tacopina e della convergenza da parte dei soci sul possibile ingresso dell'ex proprietario del Venezia all'interno della società ad azionariato diffuso quindi l'ingresso di Joe Tacopina all'interno dell'organigramma societario all'interno del novero dei soci del Catania potrebbe diventare a questo punto realtà il Catania i catanesi ci sperano perché comunque Tacopina è un nome particolarmente importante ricordiamo che in più situazioni si è avvicinato al Palermo possiamo tornare anche in studio con le immagini anche ad esempio la sua vicinanza con l'ex proprietario della Roma James Pallotta e con l'attuale proprietario del Bologna Joey Saputo entrambi americani comunque con qualche influenza italiana danno la testimonianza del fatto che Tacopina è un investitore importante ha cercato di fare ciò che ha potuto e ciò che era nelle sue facoltà in quel di Venezia che è piazza complicata soprattutto dal punto di vista infrastrutturale a Catania come ha detto lo stesso Tacopina ci sono strutture che farebbero invidia anche al Real Madrid ovviamente facendo riferimento al centro sportivo di Torre del Grifo vedremo come andrà questa situazione Tacopina che rimane per dieci giorni nella stessa città è sintomo del fatto che c'è voglia di trattare proveremo a parlarne anche nei prossimi giorni durante la prossima settimana anche con alcuni colleghi che operano ai piedi dell'Etna così come cercheremo di capire come si evolverà la situazione Trapani perché ricordo ancora una volta lunedì 24 è l'ultimo giorno utile per iscriversi ma intanto chiudiamo la nostra settimana almeno relativamente al novero delle conferenze stampa o meglio delle rassegne stampa chiedo scusa l'appuntamento oggi pomeriggio come detto con Daniele Di Donato in collegamento video per chiudere in bellezza la settimana targata a Fil Rouge Rosa Nero poi la settimana prossima ovviamente partirei il ritro del Palermo noi saremo pronti a darvi tutte le indicazioni tutte le informazioni del caso sul ritorno in campo dei Rosa Nero intanto l'appuntamento è per oggi pomeriggio grazie per averci seguito alla prossima grazie per averci seguito grazie per averci seguito Grazie a tutti